Musica E una sera che è ricca di memoria e dicevo c'è questa memoria che ci riannola alla tenace volontà di Don Arturo Quando si è a casa l'emozione gioca un ruolo che non è solo quello che condiziona la dignità ma condiziona il cuore, diversa Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.